Buongiorno, impropriamente cominciamo i lavori di un convegno che in realtà è già stato avuto inizio ieri pomeriggio con la conferenza della professoressa Zepp Kaufmann. Prima di tutto desidero ringraziare l'Istituto Italiano di Studi Germanici che ci ospita in questa splendida e prestigiosa sede dove è un piacere essere. Io dirò solo quattro parole, dirò quanto il ruolo della propaganda, in questo caso parleremo molto di arte, quindi anche delle rappresentazioni artistiche della guerra è stata importante nella prima guerra mondiale, in qualche modo e l'abbiamo scritto nella dichiarazione di intenti del congresso, del convegno, la grande guerra è anche stata la guerra delle avanguardie per una questione temporale, generazionale, perché negli anni immediatamente precedenti il conflitto si apre tutta l'epoca dei movimenti organizzati, dei manifesti delle avanguardie, il futurismo, il cubismo, il vorticismo, la complessa galassia delle avanguardie russe e tra questi artisti molti furono coloro i quali si arruolarono con grande entusiasmo al momento della mobilitazione dello scoppio della guerra, magari un entusiasmo che scemò con il contatto, l'esperire quella che è stata materialmente, concretamente l'esperienza stessa della guerra, il fango delle trincee, i morti, il sangue, i caduti, molti caddero di questi artisti comunque in guerra. E questa galassia di artisti ha anche dato vita a un'enorme produzione che si conta in molte decine di migliaia di opere complessivamente in tutta Europa. la cosa interessante è che in questo enorme numero di quadri quelli che descrivono la guerra nel suo svolgimento in realtà sono una parte limitata di tutta la produzione, vediamo che c'è un ampio spazio dedicato alla ritrattistica, ai paesaggi e a molte altre cose, mentre i quadri di combattimento, quelli direttamente militari sono, come dire, la minoranza della produzione artistica. Non c'è stato mai nessun conflitto che ha avuto così tanta partecipazione degli artisti. e noi in questa giornata e domani cercheremo di riflettere, di indagare, di ragionare su questo rapporto straordinario che si è creato tra arte e esperienza bellica e soprattutto con un occhio di attenzione verso quello che è stato il ruolo di quelle che sono chiamate le avanguardie storiche. Come di regola in tutti i convegni, visto che il programma l'avevamo cercato di definire con Antonella, il cui contributo è stato assolutamente fondamentale per l'organizzazione di queste giornate, abbiamo perso alcuni relatori, ne abbiamo persi due diverso tempo fa per chi per un viaggio all'estero perché la data esatta non era ancora stata fissata, chi per impegni accademici che coincidevano con esattamente queste giornate e per questioni di famiglia e di malattia due dei relatori che sono nel programma non li avremo. Si tratta di Maria Passaro che avrebbe dovuto parlare del gruppo degli espressionisti monacensi, il gruppo di Franz Marc, del gruppo del Blaue Reiter e mancherà anche Giorgio Pellegrini che avrebbe parlato del cubismo e del camouflage, mentre poi il programma con piccoli spostamenti sarà esattamente quello che avete nel pieghevole. Prima di dare inizio ai lavori, visto che parliamo di arte ed artisti, volevo fare un'osservazione su quello che è successo nell'ultimo paio di anni, cioè a partire dal 2014 abbiamo assistito, io parlo per il mondo francese, quello germanofono, l'Austria, la Germania e ovviamente parlo per l'Italia, ci sono state un'enormità di grandi mostre d'arte e devo dire che è un giudizio soggettivo, personale, io sono rimasto particolarmente insoddisfatto per tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi. Mi riferirò solo adesso a due mostre italiane, ma potrei dire le stesse cose per mostre che sono state a Vienna, per mostre che sono state fatte, una enorme organizzata sotto col patronato della Presidenza della Repubblica in Germania, Berlino, potrei dire, che ne so, la mostra sul 17 fatta in Pompamania dal Pompidou in Francia e via di seguito. Parlerò un attimo di due mostre, una che è stata fatta prima a Trieste e che poi è stata portata a Trento e il cui titolo era l'Europa in guerra, traccia del secolo breve e la cui probabilmente rimarrà nella storia soprattutto perché ha avuto il catalogo più imponente, molto interessante per i testi tradotti, il catalogo più imponente nella storia delle mostre perché l'edizione di Trento è stata aumentata rispetto a quella di Trieste e credo che sia vicina alle 1200 pagine, è un catalogo pericoloso soprattutto se casca su un piede. Il taglio di questa mostra aveva, era gli artisti sono contro la guerra, allora era curata dal Piero del Giudice, dichiarazione programmatica che può avere un senso tutto ideologico però non si può prendere una gomma e cancellare per esempio il periodo della mobilitazione, come questo non ci fosse stato. segnata questa mostra Trieste-Trento da questo peccato ideologico non posso non parlare, visto che noi siamo in Trentino, di questa mostra da cui ci si aspettava tanto che è stata fatta al Mart e già il titolo vero che sono dei versi di Bertolt Brecht, la guerra che verrà non è la prima ma anche questa aveva un grave vizio ideologico, cioè era una mostra nel catalogo la direttrice del Mart, se trovo la citazione che mi ero fatto, dice che lo scopo della mostra era quello di denunciare l'orrore di ogni guerra a favore di un messaggio di pace e fratellanza. Certo, chi è che non vorrebbe pace e fratellanza e quant'altro? Il problema è che era una delle mostre più importanti che doveva esserci sulla grande guerra, la grande guerra invece è assolutamente decontestualizzata, destoricizzata, non è tutto quello che riguarda la grande guerra, chi ha visto quella mostra è affogato in un pupuri in cui c'era guerra del Vietnam, c'è la guerra dell'Afghanistan, c'è la guerra del Kosovo, finiamo con Abu Ghraib e via di seguito e quello che è stata l'esperienza fondamentale, non è una banalità dire che anche se è un'espressione assolutamente abusata che la grande guerra è stata lo spartiacque del ventesimo secolo, perché c'è un prima e un dopo nel ventesimo secolo e la grande guerra è proprio lì a segnare, delimitare quello che c'è stato prima e quello che c'è stato dopo. Potrei parlare a lungo perché sono molto indignato della mostra di Roveretto, soprattutto per le ingenti risorse finanziarie che ha impegnato e lo scarto tra il progetto iniziale delle opere che dovevano essere in mostra, i capolavori forse me li sono persi io, ma credo che chi ha visitato la mostra non li ha affatto visti ed è costata molte centinaia di migliaia di euro oltre al milione e quindi questo grida vendetta ma ci sarà modo poi di ragionarci ulteriormente.